Ciao a tutti, oggi parliamo della Nikon F4, una top di gamma analogica di casa Nikon che venne presentata nel 1988 e prese il posto della famosa F3 di cui ho fatto la recensione qualche settimana fa. A differenza della F3, la F4 introduce molti cambiamenti, innanzitutto dal corpo che si discosta dal modello precedente che è molto più massiccio, ha molti più comandi e molte più opzioni. Mantiene comunque un stile abbastanza analogico, come possiamo vedere dalla parte superiore abbiamo quasi tutti, praticamente tutti i comandi analogici e comandati da ghiere o leve, a differenza di quello che poi verrà in seguito con la F5 e la F6. Quindi questa rappresenta una via di mezzo tra le macchine che l'hanno preceduta, come la F3 e la F2 che sono molto più analogiche e meccaniche e quelle che poi l'hanno succeduta, come ad esempio la F5 e la F6 che sono ormai macchine elettroniche a tutti gli effetti. Secondo me questa macchina porta con sé un po' i vantaggi di entrambe queste tipologie di macchine, infatti abbiamo la semplicità di utilizzo e di trovare tutti i comandi che abbiamo nelle macchine precedenti, come ad esempio selezionare il tempo di scatto o le varie modalità di scatto è semplicissimo perché si hanno i tasti o i selettori e invece non è così comodo come magari nella F5 in cui tutto va comandato tramite dei menu, il che porta sia ad avere più opzioni e più personalizzazione ma comunque la macchina risulta molto più complessa e la maggior parte delle funzioni comunque non sono indispensabili. Inoltre introduce molte più modalità, molte più funzioni rispetto alla precedente F3 che aveva soltanto la modalità di priorità di diaframmi, invece qua possiamo trovare tutti gli automatismi, i program, priorità di diaframmi o di tempi. Inoltre questa fu una macchina che introdusse un altro aspetto molto differente, molto importante come fu appunto l'autofocus, questa è la prima macchina professionale di Nikon ad introdurlo. Fu già introdotto in un'altra macchina che fu la F801. Passiamo ora a vedere la macchina. Partendo dalla parte superiore, dalla destra troviamo il coassiale al tasto di scatto che è una doppia corsa per la messa a fuoco, la ghiera per selezionare le modalità di scatto che è bloccata, per sbloccare bisogna premere questo pulsante e girare. Abbiamo le varie modalità, singolo, grafica veloce, grafica lenta, grafica silenziosa e l'intervallometro. Poi qui troviamo il selettore per le varie modalità di scatto con le priorità, qua abbiamo priorità di tempi e priorità diaframmi, la modalità manuale e i vari program. Poi abbiamo la ghiera per selezionare la sovra e sotto esposizione intenzionale, questa ghiera è bloccata da questo tastino qua che va premuto per poter ruotare la ghiera. Poi troviamo la ghiera per i tempi di scatto, inoltre abbiamo anche la funzione X che è quella per il flash che si blocca, qua abbiamo il tasto per il riavolgimento, qui vi faccio vedere e qui abbiamo la leva per fare le doppie esposizioni. Da quest'altro lato invece troviamo il nottolino di riavolgimento che è bloccato sempre da questa leva come un po' in tutte le Nikon, va mosso e sollevato il nottolino, se si solleva di più si apre il dorso per sostituire la pellicola. Qua troviamo la ghiera per selezionare gli ISO che è bloccata da questo tastino, se si preme si può ruotare e inoltre è presente il codice DX. Nel caso la macchina non fosse in grado di leggere gli ISO tramite il codice DX c'è il led rosso che lampeggia. Nella parte posteriore troviamo quest'altro tastino che serve anche questo per il riavolgimento automatico che va utilizzato insieme a questo che vi ho fatto vedere prima per far sì che appunto la pellicola venga riavvolta automaticamente. Altrimenti si può riavvolgere semplicemente con un nottolino e va portata dietro questa leva per sganciare il rullino. Nella parte anteriore troviamo i tasti, questo serve per alzare lo specchio nel caso si utilizzassero ottiche come i super grandangoli che entrerebbero all'interno dello specchio. In più troviamo i vari tasti per il blocco dell'esposizione o dell'autofocus. Da questo lato invece troviamo il selettore per il tipo di messa a fuoco e il tasto per sganciare l'obiettivo. Infine qua sotto abbiamo l'aggancio per il telecomando e qua per il flash. Inoltre nella parte posteriore è presente anche questo indicatore per vedere lo stato di carica delle batterie. Infine c'è la possibilità di smontare il mirino tramite questo tastino qua. Va premuto e poi si tira verso dietro il mirino. Ora non riesco a sganciare. Ok. E si può sostituire ad esempio con il mirino pozzetto oppure con il mirino sportivo. Sul mirino è presente il selettore per le varie tipologie di esposizione, la correzione ottica e qua la levetta per poter chiudere l'oculare in caso che si facessero delle lunghe esposizioni. Per inserirlo basta infilarlo e spuggere. Questo modello di Nikon di F4 si chiama F4S. Il primo modello a essere introdotto è stata la F4 se vogliamo liscia che non presentava questo battery grip aggiuntivo che porta con sé un tasto di scatto aggiuntivo con il relativo tasto di blocco. La versione liscia ha 4 batterie, questa ne utilizza 6 e fu introdotta in seguito il modello E con un battery grip più grande e la possibilità di utilizzare 8 batterie così da avere una raffica di 5.7 fotogrammi al secondo. Nonostante l'ingombro e il peso di questa macchina secondo me è un'ottima alternativa alle varie Nikon meccaniche come possono essere le varie FM o anche la F2 oppure la F3. Questa macchina rispetto alle altre ha avuto un aumento di prezzo minore, infatti la si può trovare a prezzi più accessibili e secondo me ha caratteristiche migliori rispetto alle altre macchine come ad esempio l'autofocus o le varie modalità di priorità. Quando la sequista bisogna stare attenti a controllare lo stato dei display all'interno del mirino che sono dei cristalli liquidi e tendono a rompersi e quindi appaiono neri. inoltre è presente anche una leva qui che permette di accendere il display all'interno del mirino. Per la Nikon F4 è tutto, vi lascio alcune fotografie che ho scattato con questa macchina e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! 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 Grazie per la visione!